E rimaniamo a Iesolo, parliamo d'estate e sono aperte, si sono aperte da poco le iscrizioni alla Colonia Estiva per la stagione 2014. Un mare in vacanza, questo è lo slogan appunto per la prossima stagione. Possono partecipare alla Colonia Estiva i ragazzi residenti a Iesolo dai tre anni fino alla classe quinta della scuola primaria. Fino a giovedì 24 aprile sarà possibile inviare le domande tramite apposito modulo per le iscrizioni per la graduatoria per accedere ai 30 posti riservati ai figli dei genitori impegnati con il lavoro. A queste domande ricordiamo deve anche essere allegata dichiarazione Isee non superiore a 20.000 euro. La graduatoria sarà poi pubblicata all'albo pretorio a partire da giovedì 8 maggio. Per ogni turno inoltre sono messi a disposizione 100 posti che saranno assegnati tramite sorteggio. Date e modalità saranno comunicate solo in seguito alla pubblicazione della graduatoria dei 30 posti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del comune oppure rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico o allo sportello servizi sociali giovanili e istruzione con i seguenti orari. Lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17 e 30.